musica 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 sono loro, sono loro blue armor ah io manco li vado ho sprecato uno a caso io sparo a caso, non la vate si si, ho uno per, non vedo nulla sto letteralmente sparando qualcosa c'è dato occhio eh, questo che dite di fader metto bianco li vedo un po' scoordinati andiamo dentro il vault, che ho la chiave va bene, voglio fare anche un dio per ragazzi, sennò faccio vedere Apex per Moretti oh gente davanti a me cinquantadue ha dead, occhio, non prenderlo ah, HP vado un altro p-mock, bisogna resettare via 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 via, dentro questa casa questa casa, questa casa che metto le trappe tutto una due è tra non so più bolla non so più bolla non so più light mi c'era un light eh ci siamo, ci siamo mi fullo se la sentono o fanno i flutti guardi, non lootano comunque perché non è che prendi il mio loot lo sta sparando mi sa che qua raga come si è messa la cosa pure si abormition abormition mi sa proprio che ci sei io devo assolutamente lootare devo assolutamente lootare ragazzi dammi in occhio, dovremmo essere ok sai in teoria bolle in quattro si è light niente eh la provo? la provo arriva vecchio no non morirebbe è un caustico vedete il bianco ne vuoi ancora? si si ma era un caustico non l'ho voluta provare si fightano li hanno pushati uno è lì noccato uno è lì noccato sono girati di spalla eh 116 14 14 arrivo con te ok dov'è? qua occhio 10 team ancora c'è parecchia gente è qua davanti arrivo mi sa che hanno vantaggio hanno vantaggio se salite occhio hanno un po' di vantaggio sulla posizione ultro hanno fatto una zip distrutto distrutto pat crackato è flash down down pat finder eh puciate le puciate ci sono le spot intanto 40 qua dietro crackato come fa a non essere un hit grazie senti quando muori che fa l'urlazzo l'urlatrice vado a vedere i patti com'è che fa? ci senti qua che spara vogliamo andare vogliamo fare il bunker adesso il bunker russo occhio perchè se appunti come sei? 46 io ne ho 3 grazie io 5 ne ho 3 nei 3 giochiamo anche per la posizione mi ha confuso un sacco mi sembrano batteri raga mi sembrano belle posso craftare i middle se possiamo andare 6 6 vai tranquillo vieni tieni noi vogliamo andare quindi io prenderei pad e mi prenderei una casa capite a meno che vogliate fare un ambush qua oh le monti davanti che sta girando go back go back aspetta no 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 posso dire la mia eh ormai possiamo stare qua ma bene possiamo stare qua al dare si nisa riesci a tornare c'è non l'ho più vista pullare qua la safe eh se dobbiamo vincere questa è la posizione per vincere disipere quasi carezzi eh si giochiamo a edge piano piano che c'era un team lì piano che c'era un team di occhio si si non le sento mi sa che sono andati a sinistra si si quello si però no non verrà fossero agguato metto due trap qui a giro ma c'è sempre stato c'è gente raga raga c'è gente che spara a Skyu posso spara con una raga vogliamo andare qua oltre vogliamo andare oltre intanto che dietro si è un free in torino non viene nessuno spara a Skyu arrivo 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 più veloce più veloce più veloce guarda qua occhio eh 3 1 knockato ring bomb data un fagion sulla torre vici 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 voglio finire il knockato guarda i morti visti pochi a sinistra occhio a sinistra altan controllo io controllo io controllo io o lo pushiamo o lo pushe su dai sui raga dai via 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 niente kill eh C'era anche un team dietro, qua, c'era un team qua dietro Ci siete con ma? Sì, vedo il team Boh vabbè, adesso mi listare, go, andiamo a server Ok, sto building è free Questo qua C'è anche un drop, apri il drop Crabber 2 No, scusa, rip Ma porca troia, basta Dopo questa, basta Non voglio più guardarlo Dov'era il tipo? Aspetta, cosa stai facendo? Occhio Ma che cazzo dici, c'è gente Il vecchio bisogna sempre essere pronti al tutto Qua c'è gente che bola qua Possibile che Rogue Dominic era il caustic Del team là che avevo noccato Ravenant Ultimate Ragazzi, ascoltate Ma perché sarei uno, ragazzo? Vabbè Se siete tutti col cieco Me lo faccio il lavoro di scouting dietro Perché secondo me abbiamo un ratto Ne sono piuttosto convinto Che ratto è qui? Sulla gru, sulla gru È sulla gru De Dio È sceso? È sceso dietro casa Allora, un team là fuori Il ratto è l'altro Manca un altro team Uno, due Ok, mi sa che sono tutti là Andiamo, avvicinatevi Avvicinatevi di più Secondo me è valido Sono tutti fuori lì, ragazzo Siamo tutti i team fuori safe Qua? Lì, eh? Prendono spazio Ma porca vacca Io sento passi sotto di noi Eh, c'è l'octane 145 Vuoi entrare? Damai, damai, damai Vieni qua Entri in casa Uno, vai Non l'hai tato? No, no 40, 40 Va bene così, non preoccuparti Iniziamo il game Manca un tre punti Ma dove sono? Sulla montagna? Qua, qua Tra qua e dietro Sì, possiamo anche beccare Tanto questa casa Non la possono prendere dopo Si fightano ancora? Se c'è un knock, ragazzi Abbiamo il pad Era uno solo Vendo nade Devo unir loro da noi, ok? Sì, non vedo niente Tutto bianco Ho un arc Ragazzi, dai Ho un arc star Avete nade? Mi raccomando, le nade, raga Ah, un arc Arrivano, arrivano, Tommy Due sono zaccolose sotto la casa, ok? Mi sto cercando Guarda quanti ptp sotto di noi Destra, destra Minto come è, Minto come è Pushiamolo Aspetta, aspetta Ti stai seguendo Dove te in più il tp, ok? Ok Guardatela Ok 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 Sono là sulla roccia sopra di te Non stanno prendendo tp ancora Sono qua Sono in altra parte Continua a guardarlo, eh Una ha preso spazio sotto Controllo Arriva Lo prende Raid qua dietro Lui mi sta parlando a salire con me Hai un pathfinder sotto casa Crackato il pathfinder sotto di te Petter Non lo posso prendere Cioè mi guarda la Raid più gold Non è da l'ho, ok Lo santo Uno in casa, uno in casa Sotto da te Pet, pet Lo so ma non posso fare niente Non posso fargli niente Uno entra al furgoncino Gli tira un art star Uro non può fare nulla Lancio il trampolino Chiudi da noi, eh Senti possiamo usare la tua ulti E pushare quelli sotto casa Che è l'altro No ulti, no ulti, no ulti Ma ci slamierono Cioè sono Usare la tua ulti là dentro Che si fa male Petter, parla con te Sì ma Secondo me è una cattiva idea Ok, ok Va bene, va bene Devo farlo Ok destra, ok destra Si arrampica da me Cioè se gli aspettiamo Che stringe il chart Che è meglio per noi, no? Sì Dovamo prendere angoli Però se riusciamo a stare più larghi Destra Non è meglio, eh Io sono qui al centro Io tengo il chart Staccato l'octane Staccato l'octane Ok Una top C'è il 71 Quanto serve Vai time Vai time Vai time Ok l'ultimo L'ho chaccato L'ho ucciso Non serve Menti il punto Se ti serve Non serve È da me È da me Vecchio qua Se stai tirando a bacca Posso prendere? Vai 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 fast Lascio fare Bella Tranquillo Vesho te lo dovevo Su quello là Ci stai Va bene Va bene Su quello in casa Gli ho dato una pedata Ma non lo so Siete i campioni Apex Fake pad E via Quanto serve Siete i campi Tociga I How miguel Kaélé Siete i campi